Una strana schiuma grigiastra è comparsa nelle acque del canale Albani attorno alle 14.30 di oggi. Ce lo hanno segnalato alcune persone che erano lì con i loro figli all'interno dei passeggi, poco dopo l'ora di pranzo. Stavamo giocando con i nostri bambini, ci racconta una mamma, quando all'improvviso ci siamo accorti di una strana schiuma grigiastra che è iniziata a scorrere nel canale Albani, prima più densa e fitta, poi man mano sempre più rada, fino quasi a scomparire, come se qualcuno, ci hanno detto i testimoni, avesse sversato qualcosa nel canale più a monte. Il tutto è durato circa un'oretta. La schiuma poi si è addensata a ridosso della diga di cannici che si è formata sotto il ponte storto, ignota sia la sostanza che il punto di sversamento. Sul posto intorno alle 18 sono arrivati, allertati dai cittadini, tecnici dell'ARPAM reperibili che, coordinati dalla Capitaneria di Porto, hanno prelevato campioni sia di acqua che di schiuma e che saranno poi analizzati nella mattinata di domani nei laboratori della struttura per capire di che sostanza si tratti e quindi poter eventualmente risalire alla fonte.